Buonasera a tutti dovreste sentire la mia voce e vedere anche lo schermo tanto io anche la trasmissione su facebook ok mi raccomando prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio in quanto i cfd sono strumenti complessi e comportano elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva il 65 per cento dei conti dei clienti al dettaglio per denaro facendo training con i cfd con ticmi europe ltd valuta se comprendi come funziona il cfd e se puoi sostenere elevato rischio di perdere denaro allora questa sera parleremo di un tool molto interessante io sono il primo ad essere molto curioso perché sapete che oltre ad essere responsabile italia di ticmi sono anche trader e quindi insieme a francesco paolo izzo che saluto ciao francesco buonasera ciao giuseppe buonasera a tutti scopriremo appunto questo tool però prima di iniziare come sapete c'è la breve presentazione del broker che rappresento che appunto tic mil e vi elenco un attimo le caratteristiche principali del broker broker parliamo quindi di un broker globale pluriregolamentato eh dalla fca uk sci sec è registrato presso la consob offre strumenti diversi strumenti sia in cfd che in mercati regolamentati attraverso i futures e opzioni con le piattaforme mt4 e cqg queste sono le piattaforme diciamo proprietari di tic mil a breve lanceremo anche nel mese di luglio la finalmente la mt5 a cui si aggiungeranno altri strumenti molto importanti come le azioni e anche direttamente i future negoziabili attraverso la piattaforma mt5 perché attualmente i future sono negoziabili o attraverso la cqg oppure attraverso connessioni API a eh multi chart training view e sera chart proprio su training view alla fine di questa presentazione vi eh ripropongo una promozione molto interessante per iniziare un po' anche a conoscere questi mercati regolamentati per chi non si è mai cimentato e iniziare a provare eh appunto questo tipo di training senza costi fissi eh non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi e sono disponibili diversi metodi di pagamento tra cui paypal scrill per quanto riguarda il comparto cfd eh sui future invece solo attraverso bonifico eh non ci sono limitazioni sulle strategie eh che applicate quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportuno come scalping arbitraggio chi più ne ha ne metta gli sped partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato parliamo ovviamente dei prodotti eh cfd con diverse asset eh classe disponibili forex indici azionari commodity bond eh sugli indici azionari eh abbiamo i micro lotti che sono davvero molto eh utili eh perché andiamo a parcellizzare comunque anche a gestire meglio il rischio visto che comunque partiamo da un possiamo si può partire da un centesimo appunto sui vari eh indici azionari come il Nasdaq il DAX o l'S&P quindi molto davvero molto interessanti. Le piattaforme come diciamo dicevo prima sono la MT4 che offre una demo illimitata mentre sulla CQG che dà accesso ai mercati regolamentati come il CME, il C-Bot e NYMEX eh oltre ovviamente la CQG e le connessioni API che vi dicevo prima c'è la possibilità di poter ehm e non spesso questa viene offerta comunque di provare il data feed quindi una demo con la CQG per una ventina di giorni eh trovate poi tutte le informazioni del caso sul sito di TIC1000 e in merito a sempre mercati regolamentati volevo un attimo soffermarmi sulla TradingView perché so che molti trader la utilizzano per le proprie analisi però come ben sapete con TradingView non è possibile operare se non si collega eh la TradingView a un determinato broker tra questi broker c'è anche TIC1000 che offre l'accesso eh ai futures e quindi basta poi collegare il data feed di TIC1000 che è molto facile non è nulla di complicato basta aprire il conto dedicato ai mercati regolamentati e eh poi si con le password che vengono inviate via email si ci si connette appunto alla TradingView che eh fino al 31 ottobre la TradingView Pro che offre determinati indicatori molto anche professionali come su sui volumi è totalmente gratuita perché costa intorno ai quindici eh dollari al al mese se non sbaglio però verrà data gratuitamente fino al 31 ottobre e inoltre non pagati i costi di data feed di TIC1000 eh e anche la connessione diretta a TradingView che sono altri quindici dollari quindi diciamo che c'è un risparmio di 30 eh dollari al mese fino al 31 eh ottobre. Questo è un post vedete sono tutte la lista dei vari strumenti che eh potete negoziare con TIC1000 eh non ci sono magari quelli che non ci sono su MT4 li trovate direttamente eh qui sulla sezione future. Ok allora io ho concluso la mia ehm presentazione del broker e interrompo la condivisione così passo la palla a Francesco che risaluto. Ciao Francesco. Ciao. Ciao. Condivido? Sì puoi condividere lo schermo. Così parliamo di questo tool Cartesia FX. Ok. Francesco se ci sono delle domande pertinenti io ti fermo così poi eh appunto ci soffermiamo su quello che stai spiegando eh quindi seguo io la chat. eh se le domande poi sono pertinenti a quello che stai spiegando le interrompo un attimo e ci soffermiamo. Comunque diciamo che in un oretto dovremmo finire ci sarà la la registrazione per rispondere a Pierluigi però seguite con molta attenzione perché puoi interagire anche sempre molto meglio che poi rivedersi soltanto la registrazione. Vai pure Francesco. Giuseppe grazie per la presentazione di questo invito eh su Ticmill e mi presento appunto sono Francesco Paolo Izzo eh più che un trader mi definisco uno studioso eh appassionato di di trading da ormai da anni penso che ho fatto un po' il percorso che hanno fatto un po' tutti eh cercare un' un'offerta eh di distruzione sul forex in Italia è un po' diciamo è un po' magra. Quindi studiando, facendo errori, correggendo il tiro eh sono arrivato eh non non come prima persona ovviamente ad arrivare a studiare il forex su un piano cartesiano. questo eh diciamo eh diciamo dall'analisi di il famoso eh analisi su basket di valute eh si è pensato ho pensato appunto di di eh analizzare il ogni valuta in relazione all'euro e al dollaro. vabbè adesso vediamo nel dettaglio però prima di eh affrontare Cartesia bisogna avere dei punti fissi su che cosa è il forex? Cosa cosa ci offre a livello matematico? se appunto andiamo su cosa è il forex? Ovviamente questa frase l'avete vista penso quasi in tutti i webinar secondo Wikipedia appunto è il mercato delle monete che è importante tassi di cambio fluttuanti ma cos'è il forex appunto di vista matematico le sue caratteristiche? sulla base di questo noi dobbiamo come diceva Benjamin Franklin se fallisci nella pianificazione stai pianificando il tuo fallimento quindi dobbiamo capire dall'inizio le peculiarità del mercato forex. dall'inizio intendo proprio dall'inizio cioè nel 1965 Samuelson che lavorava all'MIT si si domandò vedendo i mercati eh del diciamo del delle materie prime eh se eh poteva poteva anticipare i prezzi futuri osservando una serie storica ovviamente matematicamente l'ha dimostrato che non è possibile. stiamo parlando sempre matematicamente perché se un anno per esempio il grano ha avuto una una bassa produzione ovviamente la la domanda farà salire il prezzo stiamo parlando a livello matematico. poi Eugene Fama e Kenneth Frank si domandarono sul rapporto tempo prezzo ovvero la classica chart che vediamo noi ha senso analizzare dato che prezzissimo in modo casuale tanto più che l'autore del libro Malchiel disse lo studio dell'analisi tecnica è una perdita di tempo chi sovraperforma il mercato dovrebbe ringraziare sulla di abbendata. ma in modo speculare lo e McKinley hanno detto che invece no i prezzi scorrono in base al tempo e non è casuale ma in determinate situazioni in determinate strutture queste determinate strutture non vanno bene per tutti gli asset. dal mio punto di vista ci sono troppe ma troppe variabili che mi fanno escludere che i prezzi scorrono in modo diciamo prevedibile in base alla loro serie storica. inoltre dobbiamo capire cos'è un mercato efficiente sempre Fama con la sua tesi di dottorato diede alla definizione cos'è un mercato efficiente ovvero un mercato efficiente è quel mercato dove non esistono operazioni che ti portano un guadagno senza un rischio. e la dimostrazione la dimostrazione la dimostrazione la dimostrazione debole semiforte e forte dove nella debole quello che interessa a noi ha messo diciamo ha simulato dei tassi di cambio casuali con i tassi di cambio casuali ha dimostrato che esistono operazioni risk free quindi il mercato Forex è un mercato risk free con tassi che non sono casuali. è importante questa definizione ma quali sono i fattori che determinano il tasso di cambio ovviamente in ordine di importanza sono i fattori economici tassi di interesse l'imposizione fiscale il PIL il tasso di occupazione di occupazione politica monetaria deficit e surplus inflazione bilancia dei pagamenti. secondo importanza fattori politici ovvero se un paese è stabile o meno quindi premia la stabilità e in ultimo la decisione dei broker e dei dealers analizzando il volume di domanda offerte in real time. ovviamente i primi fattori sono abbinabili alla macro economia mentre nella micro economia cerca di costruire modelli sui tassi di cambio cioè massimi minimi correlazione e comportamenti che sono i punti chiave del mercato valutario ed è qua che con Cartesia lo possiamo usare al meglio. attenzione non solo con la micro economia ma anche con la macro economia scegliendo il punto ottimale di entrata. ovviamente le valute sono sempre diciamo quelle un po' quelle che si trattano sempre cioè australiano sterlina l'euro sterlina australiano neozelandese americano canadese franco svizzero e yen le loro combinazioni danno un totale di 28 cross perchè dobbiamo usare cartesia perché dobbiamo usare cartesia le valute che ho letto poc'anzi sono riportate in quest'ordine e se moltiplichiamo i i cambi con euro sterlina sterlina australiano 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 nozelandese nozelandese dollar americano dollar americano canadese canadese franco svizzero franco svizzero yen il loro prodotto ci darà euro yen ovviamente questo queste di queste operazioni questi giochetti non matematici le conoscono penso quasi tutti ma il discorso è se io cambio un solo valore in un cross questo cambio si rifletterà su tutti gli altri cross quindi è almeno per il forex stiamo parlando è inutile anzi deleterio osservare solo un rapporto di cambio ma bisogna studiarlo nella sua interezza ovvero in questo modo mettersi tutto il 28 cross davanti analizzare i loro rapporti come si muovono diciamo in questo modo sarà un po' difficile cerchiamo di ottimizzarlo perchè cartesia questo è questi 28 cross in questo modo la rappresentazione cartesiana di 28 cross al prezzo bid quindi al prezzo t con zero quindi attuale facile da lettura ed aiuta a prendere decisioni simultanee ripetiamo un attimo cos'è il piano cartesiano sono sicuro che tutti conosceranno il piano cartesiano però giusto perché dobbiamo capire come sfruttarlo allora il sistema cartesiano è costruito da due rette perpendicolari che si incontrano in un punto zero definito origine si fissa sulla retta orizzontale il verso positivo che convenzione è quello da sinistra verso destra il verso positivo sulla retta verticale è da basso verso l'altro l'alto si impone la stessa unità di misura su entrambe le rette a partire dall'origine O la retta orizzontale prende il nome di asse delle X o delle ascisse e noi lo attribuiamo al dollaro quindi questo è il dollaro le coordinate X e il dollaro mentre le coordinate Y e l'euro inoltre non abbiamo solo X e Y nel nostro caso ma abbiamo anche la Z quindi è tridimensionale però la Z per il momento la mettiamo da parte il punto rappresenta da due coordinate sul piano bidimensionale avendo appunto sulla X il dollaro e su Y l'euro una rappresentazione del dollaro canadese ad esempio è dato da euro CAD e dollaro CAD che in questo caso è 0,51 e 0,35 e questo è il punto però sappiamo che il rapporto tra il cross euro CAD e dollaro CAD è uguale al dollaro euro dollaro quindi corrisponde alla coordinata 0 che dicevamo prima infatti soffermandoci su un punto troveremo le tre quotazioni dollaro CAD euro CAD euro dollaro c'è da dire che per facilitare la lettura dei vari cross e la loro diciamo confronti e vedere un po' come si muovono e quindi alla relazione ho invertito i cross con il dollaro che non sono in base quindi la sterlina dollaro diventa dollaro sterlina io farò sempre riferimento prima al dollaro e poi dopo all'altra moneta come è l'euro in tutti i casi per poi investire non è un problema perché ci sarà un tool che correggerà in modo opportuno l'ordine cosa succede questo è il punto abbiamo detto un unico punto ma se registriamo da un inizio tutta la serie storica in questo caso il time frame un minuto avremo un cluster di punti che è una distribuzione dei punti sul nostro piano cartesiano il perimetro che vediamo in questo caso sarà il numero uno sarà il limite superiore di euro CAD perché abbiamo detto sull'asse delle Y è l'euro ed è positivo quindi è euro CAD il numero due similmente sarà il limite superiore di dollaro CAD tre invece limite inferiore di euro CAD quattro limite inferiore di dollaro CAD abbiamo detto che ogni punto ha tre coordinate quindi il massimo e il minimo che troviamo sul sull'asse z quindi che ci costruirà queste queste rette oblique che in questo caso sarà il minimo di euro dollaro e in quest'altro caso quindi il punto 5 il massimo di euro dollaro quindi con una sola moneta abbiamo tre cross come come riusciamo ad avere ventotto cross ovviamente abilitando tutte e vento tutte esse le monete più le due di euro e dollari sono sempre abilitate facciamo l'esempio solo due monete quindi abilitiamo sterlina che questa marrone e lo yen questo giallo ovviamente vediamo il cross come dicevo prima mi riferisco sempre al dollaro per prima e dollaro sterlina abbiamo poi euro sterlina quindi uno e due perché sono le coordinate della sterlina e abbiamo in modo analogo anche lo yen quindi avremo euro yen dollaro yen e ci sarà sempre euro dollaro in questo caso e dove esce il sesto cross ovviamente è sterlina yen questa distanza qui di questo puntini bianchi tratteggiato di questa linea tratteggiata e come viene calcolato ovviamente viene calcolato essendo che stiamo parlando di un piano cartesiano quindi geometria analitica con il teorema di pitagora abilitando ovviamente tutte esse le monete dicevo abbiamo i 28 cross questo diciamo è il è il modo in cui viene rappresentato il il forex sul sul piano cartesiano come potete scusami se ti interrompo ma c'è una domanda certo magari prima di passare alle successive argomenti allora massimo che saluto tra l'altro chiede i punti si intende la close della candela di un minuto sì sono i punti in questo caso il time frame a un minuto quindi sì io ho un minuto anche perché analizzando a time frame più bassi possibili abbiamo i comportamenti diciamo reali del del tassi di cambio che dopo vedremo come sfruttarli esatto perché poi eh Francesco ci farà vedere un caso proprio reale che è capitato in questi giorni se non sbaglio proprio su euro dollaro quindi no proprio oggi proprio oggi ok quindi siamo anche fortunati eh quindi poi anche qui la spiegazione teorica sarà molto più chiara anche poi a livello eh pratico guardando l'esempio di oggi ok scusami se ti ho interrotto Francesco continua pure grazie lettura di operazioni con cartesia allora come abbiamo visto prima tutti i rapporti di cambio si influenzano l'uno con gli altri allora in questo caso facciamo finta che la sterlina non è influenzata da altri da altre monete quindi c'è solamente euro dollaro e sterlina la sterlina si è mosso in questo modo come possiamo vedere si è spostato nel terzo quadrante primo secondo terzo quadrante dove le la x e la y è negativa ovvero euro e dollaro negativi quindi euro dollari venduti in relazione se il cross è venduto la la controparte di moneta è comprata quindi in questo caso noi faremo euro venduto quindi euro sterlina sell dollaro sterlina sell e essendo che analizzando questo angolo dove alfa è maggiore di beta oppure semplicemente vediamo che il il prezzo di della della sterlina si sta spostando sulla linea obliqua che ho detto io di euro dollaro in in buy quindi tende a avere una spinta su euro dollaro in buy non so se è chiaro questo questo concetto comunque andando avanti magari più avanti dentro ancora più semplice come dicevo le letture operazioni con cartesia abbia riportato sul fo sul il forex sul piano cartesiano quindi piuttosto che parlare di rapporti di cambio è plausibile parlare distanza tra valute di cui le valute sono i punti ho messo questa immagine perché dali dall'idea perfetta di come va usata cartesia cioè ovvero i rapporti di cambio sono delle distanze col tempo vedremo ben definite a meno che non subentrano appunto quei fattori che ho detto prima i tre fattori macroeconomici e quello diciamo di decisione da parte del broker infatti i rapporti di cambio sono praticamente ben ben definiti quindi prendendo l'esempio questo gioco del con gli elastici se un rapporto di cambio viene tirato e se c'è qualche altro rapporto di cambio un po' più diciamo non al limite permette l'estensione questo lo possiamo vedere anche con il con il grafico avanti con il la fed quando ha confermato i tassi dopo vediamo un esempio palese però dobbiamo un attimo ragionare su su come mai diciamo la osservando un singolo grafico il l'andamento di quel singolo grafico tipo ipotizziamo che il neozelandese cad è long quindi il thread crescente ma quali sono le configurazioni osservando tutto diciamo il mercato e le monete che abbiamo scelto noi di cui coprono l'ottantadue per cento delle operazioni spot i buy e sell si riferiscono osservando tutti i cross su cui sono i convolti neozelandese e il canadese ovviamente se il neozelandese è in buy su tutti i cross e il cadda in sell e ovviamente questo è palese che ovviamente il trend è crescente ma se entrambe le monete sono in sell se il sell è più venduto ovviamente si svaluta di più e abbiamo un trend crescente in modo simmetrico abbiamo se entrambe le monete sono un buy se nel neozelandese è più comprato del cad questo ci servirà proprio un esempio che arriva tra un po allora questa è una proiettività reale che ho condiviso con diciamo i ragazzi che mi hanno aiutato a fare come ma io non ho aiutato come beta tester su cartesi o se osserviamo il cad si sta spingendo in questa direzione quindi sul primo quadrante sul quarto quadrante sta continuando a spingere sul euro usd sell questa qui rossa mentre il neozelandese tende ad andare nel senso diciamo non opposto ma tende ad allontanarsi quindi se tende ad allontanarsi il rapporto di cambio aumenta il diciamo il trend quindi mantiene il suo trend e le operazioni che possiamo fare qui sono appunto il sell su nz di cad sell su euro dollaro perché sta si stanno dirigendo verso euro dollaro come possiamo vedere possiamo vendere il neozelandese sul dollaro perché si sta spingendo verso il dollaro che è positivo e possiamo vendere il canadese in quanto si sta spingendo verso l'euro che è negativo quindi sull'asse delle y giusto neanche un minuto le operazioni sono già in profitto ok ma quanto le dobbiamo mantenere e quando uscire dal mercato cartella esercita delle spiegazioni e delle dei segnali ben definiti questo giusto vedere il le operazioni queste operazioni abbiamo fatto 32 pips 42 30 e meno 10 questo meno 10 già è un segnale di uscita ma allora se come dicevo con cartella possiamo identificare eventuali rapporti di cambio che sono al massimo o al minimo in determinate condizioni tale condizione identificabile dal movimento è la distanza di due più valute se la distanza aumenta il trend continua se la distanza diminuisce il trend inverso ma a questo punto se la distanza non può più aumentare cosa può accadere ovviamente o resta lì o inverte e questo già il primo segnale che io con il cad questo euro cad incominciava a perdere perché da questa posizione si è incominciato a salire salendo sull'asse delle y l'euro acquista forza primo segnale di uscita non esco ancora perché comunque la distanza tra neozelandese e cad si sta sta ancora nonostante siano entrambe in vendita perché come possiamo vedere il neozelandese credo sul dollaro rotto il massimo questo questo lato qui come dicevo prima è il massimo del dollaro quindi andate in fase di vendita possiamo vedere che anche in fase di vendita sull'euro perché ha rotto diciamo è in quest'angolo qui quindi è assodato almeno su euro dollaro che il neozelandese in vendita ma vediamo che anche il cad è in vendita sul dollaro quindi come dicevo prima l'interno che devo interromperti perché ci sono un po di domande che ovviamente so che magari per molti di voi anche per me un po la prima volta vedere queste questo tipo di rappresentazione perché siamo un po tutti abituati ai soliti grafici quindi adesso cerchiamo in un webinar di spiegare un po il tutto ma sicuramente abbiamo bisogno di vedere molti esempi esempi pratici quindi per questo io sto presentando adesso insieme a francesco cartesia lui poi ha un canale youtube dove se non sbaglio l'hai aperto da qualche mese se non sbaglio francesco sembra un mese ho messo qualche operatività giusto per incuriosire ma ovviamente lì non dico tutto però comunque da lì si riesce a capire già un po come come funziona il tutto quindi portare un po di pazienza e cercare di seguire il ragionamento però fa fa ti ti chiede in questo caso il blu e neozelanda e il giallo e il cad giusto ok poi massimo ti chiede come riesce a valutare lo spostamento in una o nell'altra direzione perché non mi pare sia evidente da un insieme di punti come ci si deve regolare se puoi spiegare un attimo questo passaggio allora in effetti il trend si nota allora se questo è lì diciamo che partono ovviamente tutti dall'origine ovviamente mi aspetto che non faccia una cosa del genere ma ovviamente non è che ha delle oscillazioni in questo pazzisca avrà fatto un'operazione del genere arrivato qui probabilmente è ritornato e ha fatto questo trend qui anzi dovremmo vedere quello di prima per essere ok ha fatto quest'operazione ha ritornato è partito e ritornato qui e sta continuando a scendere ora se analizzate alla maggior parte dei grafici tendono ad avere comunque un trend abbastanza definito non è che diciamo fanno i matti e cambiano ogni ogni cinque minuti alla loro direzione noi ipotizziamo che continuano ad andare anche perché potremmo fare matematicamente una funzione di interpolazione e vedere che questa è la direzione stessa cosa avrà fatto il neozelandese quindi io vedo che stanno di qua e di qua c'è il modo più semplice e naturale possibile all'occhio umano questo vede e si fanno queste entrate poi cosa succede io ero qui sul card il card dove stava continuando a scendere invece no il card incomincia a girare e questo è il primo segnale dicevo che che mi fa dire fammi diciamo fammi tenere d'occhio le operatività e nel caso uscire nel caso uscire nel momento in cui vedo che il rapporto di cambio non è più diciamo non ha più quella distanza non tende più ad allargarsi ma tende o rimanere uguale o a contrarsi infatti ti chiedono i punti come c'è una domanda ai punti vanno come vanno seguiti cronologicamente parlando no allora dobbiamo un attimo uscire dalla mentalità della del tempo prezzo questo è importante perché il avere un prezzo su una moneta a un determinato istante non è importante è importante in quel momento la relazione che ha con gli altri con le altre valute con gli altri rapporti di cambio cioè io per esempio se io devo comprare che non so me le compiere a me mi interessa di quanto costava a me interessa se prendo una mela con quanto quanto la posso scambiare quindi questo è il concetto è avere il rapporto con le altre valute e soprattutto il rapporto di cambio la distanza quello che interessa a noi cartese ci deve aiutare a capire la distanza tra le valute non mi interessa seguirle esattamente ma la distanza quindi noi abbiamo fatto un'ipotesi di entrata e la distanza sta continuando ad aumentare perciò non esco dopo un po di tempo vedo che qui non ci sono punti subito dopo vedo che incomincia a generare punti non a spingere più nel frattempo continua il canadese e si avvicina al neozelandese quindi questo è un segnale netto di uscita il trend ha girato uno perché il cad sta ci sta andando contro secondo la distanza di cui è il nostro rapporto di cambio di cui è partito tutta la nostra il nostro ragionamento ci sta sta girando quindi lo scenario cambia se cambia lo scenario dobbiamo uscire cambia lo scena di uscire addirittura io ho dato anche la reversa ai diciamo alla ragazze che mi stanno seguendo e l'uscita praticamente era qui la reversa continua fino al giorno dopo ok fedele ti chiede ma non potrebbe essere solo una correzione per poi proseguire e ancora ma massimo così rispondiamo a entrambe le domande si riesce a lavorare solo in intraday con time frame da un minuto oppure possiamo cambiare time frame per avere una missione multi day allora io consiglio di utilizzarlo solo intraday massimo un giorno dopo se lo scenario continua ad andare avanti tipo il il neozelandese yen andata avanti per per tre giorni il l'inversione e quindi finché vedevo che il rapporto di cambio era si manteneva ancora largo io me lo tenevo cioè quindi continua sempre a salire oggi è incominciato a rimanere fisso quindi rivedevo più quella distanza era sempre fissa sono uscito magari poteva anche continuare ma non credo perché diciamo su euro dollaro gioca un ruolo abbastanza importante ma dovremmo un attimo approfondire un po più questo discorso anzi l'accenno con con il grafico della fed che ho un po più avanti se mi sbaglio ma eccolo qua proprio questo ok il 16 giugno per tutta la giornata euro dollaro era praticamente immobile cioè praticamente oscillava del dello 0 1 per cento più o meno ovviamente era in attesa della della fed la fed lascia i tassi invariati il mercato premia la stabilità come sappiamo ci vuole speculare questo poi vediamo e cosa succede ovviamente se il dollaro è sull'asse delle x e viene comprato dollaro ovviamente compri dollaro su tutte le valute cosa che lo strumento lo smartphone per order ci aiuta vabbè lo vedremo dopo ed è un è un trade corretto ma un occhio un po più attento può notare anche un'altra cosa quale valuta ha guadagnato o ha perso sull'euro con un aumento del rapporto di cambio su euro dollaro questo non non è palese se non hai uno strumento del genere ovvero se lo yen è qui perché aumentando il dollaro lo yen guadagna in proporzione sull'euro il lo yen guadagna in proporzione sull'euro non solo anche un po la sterlina ma invece è in perdita la neozelandese che questo blu è il grigio l'australiano che erano qui giù se seguiamo i punti vediamo che è questa la traiettoria quindi notiamo che se il dollaro guadagna lo yen guadagna sull'euro anche la sterlina quindi qua abbiamo diverse operazioni da fare ovvero dollaro su tutti compri dollaro su tutti compri yen sterlina e vendi neozelandese australiano ed euro questa era l'operatività che si poteva fare e come dicevo appunto in multiday un'operazione del genere la puoi fare se la diciamo appunto la distanza analizzandola alla giornata continua e non vedi che che viene trattenuta infatti quello che volevo fare vedere adesso era un'operazione di oggi era era una diciamo una moneta che era palesemente trattenuta ok questo sono gli smart tool appunto sono sono l'operatività gli smart gli tool che ci permettono di immettere gli ordini al mercato in modo veloce e anche abbastanza ordinato come ho detto prima a noi non interessa sapere l'ordine del corretto del del cross quindi se noi volevamo comprare l'euro e vendere tutte le altre valute utilizziamo lo smart one per order ovvero abbiamo sulla prima linea i buy abbiamo detto che compravamo solo dollaro e qui tutti sell metti un lotto fisso per ogni operazione hai un'operazione diciamo una moneta in buy sette in sell ai sette operazioni da zero virgola uno lotti ai zero virgola sette lotti ovviamente l'operazione che ho detto prima metti in buy yen e sterlina in sell euro australiano e nozelandese per un totale di zero virgola sei lotti quello che dicevo prima dire sterlina dollaro sell è logicamente equivalente a dire sterlina dollaro sterlina buy lo smart one per order immette l'ordine corretto al mercato ovviamente ci serve anche un altro strumento per la chiusura impostiamo questo è molto banale imposta il massimo il minimo che vuoi diciamo che ti come come gain e loss e e lo sette ovviamente gli ordini non sono in macchina perché non sono su numero di pips ma è sul e sul profitto in che è in quel momento quindi se si vuole utilizzare questo tipo di chiusura il computer deve rimanere acceso e la connessione sempre continua questa è la cosa diciamo importante da sottolineare ovviamente poi c'è il bottone close order chiude tutte le posizioni aperte con cartesia quindi se ci sono altre operazioni con un altro expert advisor o manuali non vengono né conteggiate e non vengono né chiuse con questo bottone questo che troviamo qui che è l'operazione di chiusura impostata che non è questa questo imposta questa è quella impostata a 250 euro il profitto corrente di 183 è un loss di meno 20 questa diciamo è la prima overview del di come poter utilizzare un piano cartesiano e mappando il forex su di esso qui i miei riferimenti e se giuseppe mi dà il permesso abbiamo ancora tempo per far vedere l'esempio che dicevo oggi sì assolutamente così la vediamo anche sulla piattaforma ricordate l'email è info cartesia fx punto com quindi contattate direttamente francesco per sapere un po tutte le condizioni per averlo e anche provarlo perché immagino francesco tu darai una diciamo una prova per poter utilizzare cartesia soprattutto il tool per quanto riguarda gli ordini che se non sbaglio uno script giusto non parliamo di un ex altino script e voglio sottolineare che con con giuseppe e e quindi Tickmill è il primo broker che ha questa piattaforma. Ottimo, ottimo davvero. Allora, ci sono altre domande, però magari facciamo vedere prima l'esempio, così lasciamo poi lo spazio di una demo, è ottimo, così possiamo anche fare un esempio su come si aprono gli ordini. Qualsiasi grafico non è importante. Allora, come ha detto Giuseppe, Cartesia non è né un indicatore, assolutamente, non è un expert advisor, ma è uno script, quindi va nella cartella degli script e si trova sotto poi i programmi. Per chi lo installa la prima volta, probabilmente se mancherà dei dati, diciamo questo è un problema della metatrader, si potrebbe bloccare, basta ritrascinarlo poi la seconda volta e si ricarica. Ah, ci tengo a sottolineare che non utilizza DLL esterne. Io ho detto attiva le DLL per farlo partire in full screen, quindi chi magari non si vuole trovare questo macello qui, basta che trascina, cartesia, imposta le DLL. E questo è lo strumento Cartesia. Vorrei innanzitutto far notare colpo d'occhio che i prezzi sono sempre allineati, questo perché appunto Forex è un mercato efficiente. Francesco, ripeti, i colori corrisponde quindi? Sì, i colori sono qui praticamente, i bottoni sono anche la leggenda, sono sempre gli stessi. Australiano, neozelandese, sterlina, franco-svizzero, canadese, yen. Ovviamente per lo smartphone per order sono identici, quindi non ci possiamo confondere. Le euro-dollaro che sono praticamente, non sono visualizzabili come punti, sì, sono tutti punti in effetti euro-dollaro, però euro-dollaro le ho colorate di blu per distinguere da qui, che in effetti non ci sono. Cosa voglio, diciamo, la prova di oggi, l'esatto punto in cui euro-dollaro ha invertito? Ok, Andrea ti chiede se puoi spiegare con questa immagine chi è forte rispetto a chi. Allora, basta seguire il ragionamento del cartesiano. Se io ho detto che nel primo quadrante euro-dollaro sono in buy, significa che chi subisce euro-dollaro è in sell. Tanto più che le altre, diciamo, contrastano euro-dollaro. Quindi queste sono tutte quelle forti, in ordine proprio, e questa è quella debole. Però non è che uno deve prendere l'ordine e entra, deve capire anche la dinamica, cioè da dove sta venendo, se sta ritracciando, quindi se in questo caso il CAD sta ritracciando. Prendiamo soltanto il CAD, i prezzi del CAD e i limiti. Ok, vediamo che, per chi mi ha chiesto come interpretare i prezzi e l'andamento, se lasciando un attimo il cursore su ogni punto ci darà l'orario e, come possiamo vedere, le quotazioni dei tre cross. Quindi è arrivato qui, qui giù, ritornato, questo qui, e quindi potrebbe essere già un'analisi così di tre secondi che il neozelandese sta perdendo, diciamo, forza sull'euro. Potrebbe essere questo. Bisogna sempre vedere se gli altri rapporti di cambio, quindi le altre distanze, permettono questo movimento. Questo discorso lo faccio, diciamo, è molto più chiaro con quello che volevo far vedere, ovvero lo yen. Lo yen che cosa ha fatto? Se vediamo in questa, alle 13.05, era in questa posizione, quindi era in vendita su euro-dollaro. Poi euro-dollaro, il cross euro-dollaro, era in buy, quindi tendeva a salire, saliva, 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 è arrivato a questo punto qui. Questo punto qui, quindi questo limite qui, era un limite che già aveva tracciato la mattina, questa notte, alle 2.016. Che cosa ha fatto? Le altre valute continuavano a scendere. Quando è arrivato lo yen qui, ha incominciato a andare in verticale, quindi non scendeva più, non faceva più questo trend qui, questa direzione, ma incominciava a scendere in verticale. che significa che mentre ci stiamo spostando in questa direzione, perché, come ho detto prima, i prezzi sono tutti allineati, sono sempre allineati, quindi ci stavamo spostando in quella direzione e quella direzione significa euro-dollaro-buy, perché stiamo spostando qui, su questa linea obliqua verde. Quando è arrivato a questo punto di massimo, come possiamo vedere qui, impostando i limiti, e cominciare a scendere. Cominciando a scendere significa che sull'asse delle X non si muoveva più lo yen. Infatti andremo a vedere in questo momento uno che, l'orario che vediamo qui è l'orario già corretto, quindi è local, mentre ovviamente la TIC 1000 ha un'ora in più. quindi se andiamo a vedere alle 15 e 59, quindi alle 16 e 59 euro-dollaro, un attimo che il template non lo fa vedere. Io nel frattempo mi leggo qualche domanda per vedere se abbiamo dimenticato qualcuno. Flavio ci fa i complimenti, la qualità nel Forex è complessa, meno male che proponete programmi strutturati e non le solite terminate trendline e inutilità varie. Complimenti per il lavoro spettacolare, nonostante la mia laurea in ingegneria con l'Ode non riesco a starvi dietro. Beh, ci vuole un po' di pratica, di allenare l'occhio più che altro, perché anch'io devo dire che sto sbattendo un po' la testa su Cartese da quando poi l'ho scoperto con Francesco sto cercando di... perché comunque anch'io sono molto influenzato dalle solite... dalla normale analisi che si fa su un determinato strumento, quindi graficamente, quindi bisogna un po' allenare l'occhio e ragionare un po' come sta facendo Francesco. e quindi... Dopo diventa divertente come fanno un sudoku. Esatto, poi noi ti seguiamo tutti, poi hai il canale YouTube che magari se... non so se c'era tra i vari contatti, lo fai vedere così. No, no, no. Poi nel caso poi giro per email, ma... contattarlo perché è anche un gruppo Telegram, giusto? Sì, 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 poi doverò tutti i riferimenti. Ottimo, ok, vai pure. Sì, come dicevamo qui sul... lasciando il corso, le vediamo che è alle 15.59. È incominciata, ha dato il massimo, è incominciata a scendere in verticale. Quindi che cosa abbiamo? Uno, il massimo alle 15.59. preciso, cioè siamo veramente... quindi non andiamo su oscillatori che, diciamo, normalizzano massimi e minimi. No, qua stiamo vedendo proprio il rapporto di cambio, dove è arrivato, dove ci è permesso arrivare. E come mai siamo arrivati lì, ha fatto questa caduta? Perché, sembra assurdo, e adesso lo vediamo, questo rapporto di cambio è stato fermato da dollaro yen. Perché abbiamo detto che è arrivato qui e incominciava a strofinare. Se scivola sull'asse delle X, ovviamente in base al dollaro, non si muove più. Quindi, possiamo prendere di yen, quindi è la 59, 16, eccoci qua. Questa parte qui di lateralizzazione che non andrà più da nessuna parte. ottimo, Gianluca poi scrive che usa già Cartesia, quindi probabilmente ti segue, e posso dire che ci vogliono circa 15 giorni di uso, poi si apre un mondo nuovo, 28 strumenti su un unico pannello operativo, quindi già lo utilizzo. Sì, è uno che mi sta aiutando a, diciamo, nei beta test, i test per Cartesia, insomma. sì, un po' di soddisfazione perché all'inizio ovviamente un po' erano un po', bisogna buttare l'idea delle candele, del tempo soprattutto, il tempo non ci serve come unità di misura, ci serve solo giusto per capire il trend, che diciamo il movimento che sta facendo la moneta, ma la moneta proprio in sé per sé, non l'euro, dollaro, dollaro. Però Francesco, ti faccio questa domanda, in determinati casi può invece aiutare nel senso se vado a vedere, io adesso li chiamo pattern per restare un po' sulla stessa linea di analisi che faccio spesso, la classica analisi standard, ma se vedo una determinata conformazione in determinati orari, come può essere l'apertura o la chiusura di una determinata borsa, in quel caso può essere comunque un valido supporto anche il tempo oppure no? cioè voglio dire, se ho la confermazione alle 15 e 30, ho una determinata conformazione alle 15 e 30, appunto Apple Wall Street potrebbe magari essere più forte rispetto a determinate conformazioni che possono diciamo verificarsi in orari diversi o più tranquilli. Allora, sai cosa, diciamo, non sto ponendo l'accento su questa situazione, ma l'ho accennato quando la distanza tra euro e dollaro si allargavano e penso che parecchi trade si sono accorti quando l'euro dollaro non oscilla, rimane laterale, tutto il mercato rimane un po' laterale. Quindi, con questo cosa voglio dire? Che difficilmente, almeno io non l'ho trovata, difficilmente troverai una conformazione della punta diciamo della cluster i cluster di punti che ti possono far capire cosa sta succedendo. Quello che ti può far capire cosa sta succedendo sì sono i punti ma in relazione a un'altra moneta cioè come l'esempio che ho fatto vedere prima nelle slide è il CAD neozelandese lì era palese cioè praticamente quando saliva il neozelandese il CAD lo seguiva quindi vedeva la nuova di punti che venivano strofinati diciamo venivano trascinati sul supporto diciamo sul minimo di euro dollaro quindi che significa se i punti vanno su euro dollaro e continuano significa che il rapporto tra euro dollaro è arrivato al massimo non tende più ad allargarsi quindi se la moneta ha un suo trend forte allora che succede? Un po' come prendere un pennello lo schiacci sulla scrivania o diciamo le setole si allargano quindi vanno di qua e vanno di là ovviamente se si allarga il rapporto con l'altra moneta aumenta se si tendono ad avvicinare invece il rapporto sta come dicevo prima sta invertendo quindi quello che consiglio è sempre la distanza osservare la distanza e quando le monete arrivano su euro dollaro come si comportano quindi io le entrate paradossalmente le farei solo quando arrivano a capire se l'euro dollaro permette o meno di aumentare il rapporto di cambio perché come abbiamo visto e questo storicamente lo puoi anche verificare aumentando il rapporto diciamo se guadagna il dollaro ci sono altre valute che guadagnano sull'euro e viceversa ok perfetto ti chiedo se è possibile aprire un ordine con il full in modo tale assolutamente assolutamente anzi vediamo anche di fare qualcosa di corrente veloce veloce qui perfetto ottimo allora io comincio a togliere un attimo i pezzi ok vedo che nessuno abbiamo appunto un'operazione un po' da non fare perché non c'è nessuna situazione che tende a ritestare quindi non sono nessuna moneta è sui limiti però vediamo un po' di fare un'operazione ok 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 allora andiamo con i prezzi allora con diciamo l'analisi fatta ipotizzo ipotizzo che si stanno avvicinando queste monete e vanno diciamo sul verso il primo e il quarto quadrante quindi se vanno in questa direzione euro usd è venduto quindi quindi che cosa faccio compro euro e compro dollaro e vendo euro e apro un'operazione ora se se l'australiano tende a ritracciare quindi le coordinate che sono entrambe negative vanno virano verso il positivo significa che euro e dollaro stanno diventando positivi quindi andando in questa direzione e ovviamente venderò l'australiano in modo analogo vediamo se lo yen che si sta spostando da questa direzione a qui possiamo ipotizzare che sia venduto quindi si ha comprato scusate si ha comprato mentre euro e dollaro venduti ce la faccio ok abbiamo ipotizzato che si stanno avvicinando quindi yen comprato australiano venduto questa è la l'utilità di lo smart open order quindi senza avere è la comodità di capire cosa dobbiamo comprare e vendere immediatamente se poi appunto vogliamo andarcene a letto sapendo che il nostro computer rimarrà acceso non vai stand by e non ci siano riavvi di windows e la connessione è stabile possiamo comunque impostare un valore hai visto per caso in vps funziona bene o c'è bisogno più di un desktop remoto di vp non l'ho testato in vps però non penso che cambi qualcosa non come come diciamo potenza di calcolo devo dire che la metatrader anche perché sviluppate in c quindi è leggera mi meraviglia sempre di più se io per esempio metto quindi questa è una prova di forza che sto facendo però giusto metto a 5 minuti time frame a 5 minuti e metto 7 giorni abilito tutte le monete sfido qualsiasi altra piattaforma che è un computer che è un portatile anche non particolarmente performante riesce a gestire in questo modo tutti questi punti coordinate e soprattutto la metatrader non è progettata per quello che stiamo vedendo cioè non ha coordinate su assi cartesiani ha coordinate per altre cose però appunto è stata ricostruita da capo questa questa rappresentazione ok perfetto purtroppo siamo a corto con il tempo ci sono ancora un po' di domande però io vi dico a questo punto di rivolgere direttamente a Francesco se puoi riproporre i tuoi i tuoi riferimenti allora sì ci sarà sicuramente assistenza da parte di Francesco una persona molto disponibile quindi scrivetevi pure senza problemi ti fanno molti complimenti molti sono un po' diciamo ditubanti ma è anche normale magari per molti è la prima volta che si vede un grafico del genere ok allora scrivete direttamente a a Francesco a Telegram si a Telegram t.me slash ifp78 riesci a riesci a postarlo sulla chat sì 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 certo così ok ok così seguite direttamente il canale è un canale o un gruppo un gruppo se non sbaglio allora no è un canale ma il gruppo dei betatest ora diventerà diciamo open per chi per chi utilizza la cartesia e quindi ci sarà un dibattito poi diciamo i betatest mi aiuteranno anche a a spiegare a fare degli esempi con con i nuovi arrivati oppure chi vuole chi ha dei dubbi insomma perfetto allora scrivete a Francesco sapere se mi conoscete un po' che io lavoro solo con persone molto serie e professionali quindi non siamo qui a vendere corsi da migliaia di euro o quant'altro quindi ho letto prima una domanda state tranquilli io li seleziono molto i miei relatori perché comunque voglio esprimare di tutto serietà e non non siamo qui per fregare il prossimo quindi state tranquilli vi dico solo di contare perché è un argomento molto complesso io in primis sto studiando ancora e quindi molte cose per me sono assolutamente nuove ok io Francesco ti ringrazio e magari se riusciamo a organizzare qualche altro webinar con degli esempi pratici magari lo faremo prossimamente o altrimenti vi rimando sempre nuovamente a tutti i vari canali che Francesco vi ha comunicato grazie Francesco per l'ottimo lavoro ti fanno tantissimi complimenti e alla prossima grazie a tutti buona serata grazie grazie buona serata a tutti grazie 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 grazie